allora ragazzi prendete la partita con lo Shakhtar Donetsk e potete fare un po' copia in colla anche a livello sia di prestazione che di giudizio perché di fatto è quello lì quando arrivi ad un passo dal traguardo quando devi fare quella cosettina in più per raggiungere l'obiettivo eccoci qua che l'Inter non riesce a fare quell'ultimo step per dirla in modo contiano diciamo così niente da fare l'Inter è fuori dalla Coppa Italia 0-0 il risultato di questo Juventus Inter semifinale di ritorno di Coppa Italia la Juventus passa per effetto quindi della vittoria per 2-1 a San Siro diciamo che è un passaggio del turno in cui la Juventus è passata di fatto facendo 5 tiri in porta in due partite ma io sottolineerei anche soprattutto i demeriti di un Inter che all'andata ha regalato la vittoria alla Juventus al ritorno sinceramente ha fatto ben poco per poter mettere in dubbio il passaggio del turno bianconero prima di darvi la mia analisi di raccontarvi la partita e di darvi le pagelle devo ringraziare il nostro Marco Feltrin il nostro sostenitore che grazie al suo abbonamento ha permesso la creazione di questa clip il sostegno di Marco è molto importante per noi per contribuire sempre più alla crescita del nostro progetto chi vuole sostenerci può farlo andando su patreon.com slash passione inter trovate il link in descrizione oppure potete fare come Marco appunto abbonandovi molto semplicemente con pochi click al nostro canale YouTube il vostro sostegno per noi è molto importante che partita è stata? è stata una partita molto lenta la Juventus giustamente ha fatto quello che doveva fare cioè si è piazzata lì possesso palla molto sterile non ha cercato di segnare perché francamente non ne aveva bisogno tanto segnare zero o un gol alla Juventus avrebbe cambiato pochissimo perché l'Inter doveva segnarne a prescindere due è una partita molto lenta quindi le prime azioni sono state interiste soprattutto l'Inter ha avuto una buona palla per Lautaro all'inizio ma poi ci sono stati tra il ventiquattresimo venticinquesimo minuto e il trentacinquesimo una decina di minuti di buona Inter in cui però come spesso capita non sappiamo sfruttare le occasioni una Juventus che l'abbiamo vista secondo me in difficoltà nella gestione del pallone in difesa quando veniva pressata un Buffon palesemente in imbarazzo col pallone tra i piedi e non siamo riusciti però ad approfittarmi la Juventus che si è vista di fatto per la prima volta in avanti al minuto 42 43 con un miracolo di Defray veramente provvidenziale su Ronaldo e poi ancora una volta Ronaldo il tiro di bastoni di fatto Ronaldo è l'unico che ci ha provato e l'unico che voleva vincerla questa partita per il resto la Juventus ripeto ragazzi la Juventus ha giocato per lo 0 a 0 gli è stata bene lo 0 a 0 ma è logico che abbia fatto così era l'Inter che doveva recuperare e quindi è stato anche capisco il gioco che ha fatto la Juventus nel secondo tempo ci sono stati alcuni squidi da parte di Ronaldo soprattutto ripeto di fatto solo lui ci ha provato a vincerla con Andanovic che ci ha tenuto a galla ecco paradossalmente verrebbe da dire quando serve meno Andanovic fa i miracoli vabbè passatemi questa semi battuta quali sono le cose che mi hanno deluso di più sono rimasto perpresso sui cambi come dicevamo insieme al nostro Simone Frizza di fatto Conte e l'Inter hanno cambiato uomo su uomo ma senza cambiare tema tattico sempre questi tanti palloni giocati arrivando poi in maniera abbastanza confusa negli ultimi metri dove diventavamo tanto fumosi e poco concreti ho capito poco il cambio sensi per Eriksen avrei sinceramente preferito togliere Brozovic perché di fatto oggi molto male poi negli ultimi minuti un equilibratore come Brozovic quando devi cercare di recuperare di fare l'impresa non ne capisco il senso e quindi ecco sensi va bene inserirlo visto che di cambi offensivi non ne avevi però un Eriksen che ti può calciare una punizione e ti può battere qualcosina dalla distanza lo avrei tenuto e devo dire che sono molto molto deluso dalla prestazione dei due attaccanti Lautaro Martinez e Lukaku sinceramente oggi molto male dicevamo prima di questa partita serve la grande prova della Lula serve un Lukaku che nei big match fino ad ora non ha fatto benissimo a parte il derby e però anche stasera soprattutto tutti e due sinceramente li metto negativi non hanno fatto bene poco incisivi scelte sbagliate e molto molto sotto dono e tra l'altro dovremmo anche un po' interrogarci sul Lukaku che è da una serie di partite che non sta facendo bene eh vi leggo i voti curati dal nostro Antonio Siragusano eh Andanovic voto sette di fatto è eh è l'unico a spiccare con la sua prestazione se l'Inter rimane imbattuta è anche soprattutto merito suo con diverse parate su Cristiano Ronaldo Skriniar il nostro il nostro Antonio gli dà cinque e mezzo fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo cinque e mezzo secondo me Skriniar nel secondo tempo è cresciuto non è stato precisissimo in difesa ma è stato uno dei pochi in avanti a provarci con continuità soprattutto alla lunga io un sei forse glielo avrei dato a Skriniar eh Defray sei e mezzo ci sta soprattutto per i due miracoli sul Ronaldo bastoni sei Kolarov sei e mezzo mi è piaciuto l'ingresso di Kolarov che ha fatto due buone chiusure sul Ronaldo e diversi traversoni molto buoni tra i più positivi pur non avendo combinato chissà che eh lo stesso sei e mezzo per Hakimi eh Barella sei oggi ha girato un pochettino a vuoto non per colpa sua ma per un contesto in cui non è stato sicuramente favorito Brozovic cinque io sarei stato anche un po' più cattivo su Marcelone Brozovic Ericsson cinque e mezzo eh e sono d'accordo qui mi sarei aspettato di più sinceramente da Ericsson anche se sicuramente ha fatto meglio di Brozovic nella posizione di doppio play senza i cinque e mezzo è entrato i primi minuti sono stati veramente irritanti con tanti palloni sbagliati eh Darmian cinque voto cinque per Matteo Darmian fatemi sapere cosa ne pensate anche qui Perisic sei Lukaku arriviamo i due attaccanti quattro e mezzo per Lukaku eh il voto del nostro Antonio e Lautaro Martinez voto cinque io sarei stato forse un po' più cattivo eh con entrambi considerando quelle che erano le aspettative che avevamo riposto su entrambi eh una sconfitta un pareggio che comunque è eh una sconfitta eh sicuramente perché si va fuori dalla Coppa Italia perdiamo un altro obiettivo stagionale adesso diciamo che il sentiero per poter considerare positiva questa stagione si fa sempre più stretto eh diciamo che l'obiettivo di arrivare almeno a lottare per lo scudetto all'ultima giornata come diciamo sempre si fa sempre più eh necessario non credo che questa sconfitta inciderà tanto dal punto di vista del morale sulla nostra squadra sulla nostra inter eh mi aspetto adesso una reazione feroce rovente e di grande grinta grinta che stasera davvero non c'è stata se ci tenevamo tantissimo a questa Coppa Italia sinceramente stasera non l'ho non l'ho visto abbiamo fatto passare la Juventus quindi con cinque tiri in porta e grandi meriti a loro che non hanno brillato abbiamo dimostrato secondo me di aver annullato il gap nelle partite secche però loro portano a casa l'obiettivo noi portiamo a casa tante pacche sulle spalle e ci facciamo veramente poco fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi se siete d'accordo con i nostri voti vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube a seguirci anche sulle piattaforme di podcasting speaker Spotify Apple Podcast e Google Podcast vi ringrazio nuovamente Marco Feltrine che è il nostro sostenitore che ha contribuito grazie al suo abbonamento alla realizzazione di questa clip chi vuole sostenere ci può farlo andando su patreon.com slash passione inter oppure su YouTube cliccando sul tasto abbonati Grazie a tutti